La reciproca autonomia fra Stato e religioni non esclude ma impone di rafforzare e organizzare la manifestazione pubblica del pluralismo religioso come strumento per rafforzare la coesione delle diverse componenti della nostra società attorno a un forte senso di appartenenza, attorno a valori e sentimenti che accomunano tutti coloro che sono nati o hanno scelto di vivere nel nostro Paese. Io ringrazio dunque il Presidente Chiti per avere contribuito con le sue riflessioni a questi temi che non riguardano solo le dinamiche interne e relazionali tra partiti politici ma attengono a una concezione plurale e inclusiva della nostra società che è naturale per l'Italia.